Avvenne io, Nefi, dopo aver parlato col Signore, ritornai alla tenda di mio padre, e avvenne che egli mi parlò, dicendo, ecco ho fatto un sogno in cui il Signore mi ha comandato che tu e i tuoi fratelli torniate a Gerusalemme, poiché ecco l'abbano a la storia dei Giudei e anche una genealogia dei miei antenati, ed esse sono incise su tavole di bronzo. Pertanto il Signore mi ha comandato che tu e i tuoi fratelli andiate alla casa di l'abbano, cerchiate gli annavi e li portiate qua giù nel deserto, ed ora ecco i tuoi fratelli mormorano dicendo che ardo so che ho richiesto l'oro, ma ecco non sono io che l'ho richiesto l'oro, ma è un comandamento del Signore. Va dunque figlio mio e sarai favorito dal Signore perché non hai mormorato. E avvenne che io, Nefi, dissi a mio padre, andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figliore degli uomini senza preparare loro una via affinché possano compiere quello che egli ha comandato. E avvenne che quando mio padre ebbe dito queste parole, fu sumamente lieto, poiché seppe che ero stato benedetto dal Signore. Ed io, Nefi, e i miei fratelli iniziamo il viaggio nel deserto con le nostre tende per salire alla terra di Gerusalemme. E avvenne che quando fummo saliti alla terra di Gerusalemme, io e i miei fratelli, ci consultammo l'un l'altro e tirammo a sorte chi di noi dovesse entrare nella casa di Labano. E avvenne che la sorte cadde su Laman e Laman. Entrò nella casa di Labano e gli parlò mentre egli era seduto in casa sua e chiese a Labano gli annali che erano incisi sulle tavole di bronzo che contenevano le genealogie di mio padre. Ed ecco avvenne che Labano si addirò e lo scacciò dalla sua presenza e non volle che egli entrasse in possesso dei annali, pertanto gli disse, ecco tu sei un ladro e io ti ucciderò. Ma Laman fuggì dalla sua presenza e ci raccontò le cose che Labano aveva fatto. E noi cominciamo a essere sommamente addolorati e i miei fratelli erano sul punto di ritornare da mio padre nel deserto. Ma ecco io dissi loro, come il Signore vive e come noi viviamo, noi scenderemo da nostro padre nel deserto? Non scenderemo dal nostro padre nel deserto finché non avremmo compiuto ciò che il Signore ci ha comandato. Pertanto siamo fedeli nell'obbedire ai comandamenti del Signore. Scendiamo dunque alla terra di eredità di nostro padre, poiché ecco egli ha lasciato oro, argento, ogni sorta di ricchezza e tutto ciò egli ha fatto a motivo dei comandamenti del Signore. Poiché sapeva che Gerusalemme deve essere distrutta a causa della malvagità del popolo, poiché ecco essi hanno rigettato le parole dei profeti. Pertanto se mio padre avesse dimorato nel paese dopo che egli era stato comandato di fuggire, ecco avrebbe dovuto perire anche lui. Pertanto è necessario che egli fuga dal paese. Ed ecco è secondo la saggezza di Dio che noi otteniamo questi annali per poter preservare per i nostri figlioli il linguaggio dei nostri padri. E perché possiamo anche preservare per loro le parole che sono state dette dalla bocca di tutti i santi profeti, che sono state comunicate loro mediante lo spirito e il potere di Dio, da quando il mondo ebbe inizio, sì fin al tempo presente. E avvenne che parlando in questo modo io persuasi i miei fratelli e restare fedeli nell'obbedire ai comandamenti di Dio. E avvenne che scendemmo alla terra della nostra verità e mettemmo assieme il nostro oro, il nostro argento e le nostre cose preziose. E dopo aver messo insieme queste cose salimmo di nuovo alla casa di Labano. E avvenne che entrammo da Labano e gli chiedemmo di darci gli annali che erano incisi sulle tavole di bronzo per i quali gli avremmo dato il nostro oro, il nostro argento e tutte le nostre cose preziose. E avvenne che quando Labano vide i nostri beni e che essi erano assai cospicui, li bramò a tal punto che ci scacciò e mandò i suoi serbi ad ucciderci per potersi impadronire dei nostri beni. Ed avvenne che fuggimmo davanti ai serbi di Labano e fumo costretti ad abbandonare i nostri beni che cadono nelle mani di Labano. E avvenne che fuggimmo nell'eserto e i serbi di Labano non ci raggiunsero e ci nascondemmo nella cavità di una roccia. E avvenne che Laman si adirò contro i me e anche contro mio padre e così pure Lamuele poiché dava ascolto le parole di Laman. Pertanto Laman e Lamuele dissero molte parole dure a noi, loro fratelli minori, e ci percossero perfino con un bastone. E avvenne che mentre ci percotevano con un bastone, ecco che un angelo del Signore venne stetto dinanzi a loro e parlò loro dicendo perché percotete il vostro fratello minore con un bastone? Non sapete che il Signore l'ha scelto per essere il governatore su di voi e ciò a causa delle vostre iniquità? Ecco salirete di nuovo a Gerusalemme e il Signore metterà Labano nelle vostre mani. E dopo che l'angelo ci ebbe parlato, se ne andò. E dopo che l'angelo se ne fu andato, Laman e Lamuele, cominciarono di nuovo a mormorare dicendo, come è possibile che il Signore metta Labano nelle nostre mani? Ecco, egli è un uomo potente e può comandare a cinquanta, sì, e può anche uccidere a cinquanta. Allora, perché non noi? E avvenne che parlai ai miei fratelli dicendo, saliamo di nuovo a Gerusalemme e siamo fedeli nell'obbedire ai comandamenti del Signore, poiché ecco, egli è più potente di tutta la terra. Allora, perché non più potente di Labano e dei suoi cinquanta, sì, o anche delle sue decine di migliaia? Saliamo dunque, siamo forti come Mosè, poiché in verità egli parlò alle acque del Mar Rosso ed essi si divisero di qua e di là e i nostri padri li attraversarono uscendo dalla scheritù su terra asciutta e gli eserciti di farone e li seguirono e furono annegati nelle acque del Mar Rosso. E ora, ecco, sapete ciò che è vero e voi sapete pure che un angelo vi ha parlato, potete pertanto dubitare? Saliamo, il Signore è in grado di liberarci proprio come i nostri padri e di distruggere Labano proprio come gli egiziani. Ora, quando ebi detto queste parole, essi erano ancora tirati e continuavano ancora a mormorare e non nemmeno mi seguirono finché giungemmo sotto le mura di Gerusalemme. Ed era notte e li feci nascondere fuori delle mura e dopo che si furono nascosti, io e Nefi entrai furtivamente nella città e mi diressi verso la casa di Labano. Ed ero guidato dallo spirito non sapendo in anticipo ciò che avrei fatto, non di meno avanzai e quando giunsi fino vicino alla casa di Labano vedi un uomo che era caduto a terra davanti a me poiché era ebro divino. E quando mi fui avvicinato mi accorsi che era Labano e vedi la sua spada e la estrassi dal fodero. La sua impugnatura era d'oro puro e di fattura sommamente raffinata e vidi che la sua lama era del più prezioso acciaio. E avvenne che fui spinto dallo spirito a uccidere Labano ma dissi in cuor mio, già mai ho versato sangue umano e mi ritrassi e avrei voluto poter evitare di ucciderlo. E lo spirito mi disse di nuovo, ecco, il Signore l'ha messo nelle tue mani. Sì, e io sapevo pure che aveva tentato di togliermi la vita. Sì, non voleva dare ascolto ai comandamenti del Signore e ci aveva anche sottratto i nostri beni. E avvenne che lo spirito mi disse di nuovo, uccidilo, poiché il Signore l'ha messo nelle tue mani. Ecco, il Signore uccide i malvaggi per raggiungere i suoi giusti propositi. È meglio che un solo uomo perisca piuttosto che un'azione dei generi e perisca nell'incruguità. Ed ora, quando io Nefi ebi udito queste parole, ricordai le parole del Signore che mi rivolse nel deserto dicendo, in quanto che la tua progenie obbedirà ai miei comandamenti, essa prospererà nella terra di promessa. Sì, e pensai pure che essi non avrebbero potuto obbedire ai comandamenti del Signore secondo la legge di Mosè se non avessero avuto la legge. E sapevo anche che la legge era incisa sulle tavole di bronzo, e ancora sapevo che il Signore aveva messo l'abbano nelle mie mani per questo scopo, affinché potessi ottenere gli annali secondo i suoi comandamenti. Obbedì dunque alla voce dello Spirito e presi l'abbano per i capelli e gli tagliare la testa con la sua stessa spada. E dopo che ebi tagliato la testa con la sua stessa spada, presi gli abiti di Labano e me ne rivestii proprio in ogni particolare e mi cinsi i fianchi della sua armatura. E dopo che ebi fatto ciò avanzai verso la tesoreria di Labano, e mentre mi avvicinavo alla tesoreria di Labano ecco vidi il servo di Labano che aveva le chiavi della tesoreria. E gli comandai con la voce di Labano di entrare con me nella della tesoreria. Ed egli credette che fossi il suo padrone Labano poiché vide i vestiti e anche la spada di cui mi ero cinto i fianchi. E mi parlò a riguardo degli naziani dei Giudei sapendo che il suo padrone Labano era stato tra loro durante la notte. E io gli parlai come se fossi stato Labano e gli dissi anche che dovevo portare le incisioni che erano sulle tavole di bronzo ai miei fratelli maggiori che stavano fuori dalle mura. E gli ordinai pure di seguirmi. Ed egli credendo che parlassi dei fratelli della chiesa e che io fossi veramente quell'Abano che aveva ucciso, pertanto mi seguì. E mi parlò molte volte riguardo agli anziani Giudei mentre mi dirigevo verso i miei fratelli che stavano fuori dalle mura. E avvenne che quando Laman mi vide fu molto spaventato come pure Lamuele e Sam. Ed essi fuggirono dalla mia presenza poiché credevano che io fossi Labano, che egli mi aveva ucciso e che cercasse di togliere la vita anche a loro. E avvenne che io li chiamai ed essi mi dirono cessarono pertanto di fuggire dalla mia presenza. E avvenne che quando il serbo di Labano vide i miei fratelli cominciò a tremare ed era sul punto di fuggire dal mio cospetto e di tornare alla città di Gerusalemme. Ed ora io ne che essendo un uomo alto di statura e avendo anche ricevuto dal Signore molta forza afferrai dunque il servo di Labano e lo trattenni affinché non fuggisse. E avvenne che gli dissi che se avesse dato ascolto alle mie parole come il Signore vive e come io vivo così se avesse dato ascolto alle nostre parole gli avremmo risparmiato la vita. E gli dissi anche che con un giuramento che non doveva temere che sarebbe stato un uomo libero come noi se fosse sceso nel deserto con noi. E gli parlai pure dicendo certamente è il Signore che ci ha comandato di fare questo e non saremo noi dirigenti nell'obbedire ai comandamenti del Signore? Se tu dunque scenderai nel deserto da mio padre avrai un posto fra noi. E avvenne che Zoram prese coraggio alle parole che gli dissi. Ora Zoram era il nome del servo e gli promise che sarebbe scelto nel deserto da nostro padre. Sì e ci fece anche il giuramento che da quel momento in poi sarebbe rimasto con noi. Ora noi desideravamo che egli rimanesse con noi per questo motivo affinché i giudei non sapessero della nostra fuga nel deserto per paura che ci inseguissero e ci annientassero. E avvenne che quando Zoram ci ebbe fatto un giramento i nostri dimori a suo riguardo cessarono. E avvenne che prendemmo il tavolo di bronzo e il servolo di labano e ci inoltrammo nel deserto e viaggiamo verso la tenda di nostro padre.